Onorevole magistrati, io ho il permesso di poter iniziare, in forza allo stranale del Paglio di Agnano, su disegnazione degli enti promotori, comuni di Agnano, famiglia aglianese, collegio dei capitani e delle contrari, il collegio dei magistrati per l'anno del Signore 2013 è così composto, supremo magistrato Alberto Cettinaio, sindaco città di Agnano, magistrato Luigi Caierone, crescente famiglia aglianese, Romano Colombo, gran maestro collegio dei capitani e delle contrari. Su disegnazione del supremo magistrato, in base all'articolo 8 del regolamento generale del Paglio di Agnano, è confermato, cavaliere del Paglio, il gran primore Gianfranco Bononi. Queste nomini sono state scritte all'alvo della segreteria del magistrato del Paglio. Il supremo magistrato procede alla consiglia della spada ai capitani di nuova nomina, secondo l'antica e consacrata tradizione dei cavallini medievale. Per la capitana della contrata a San Bernardino, assumo la carica di capitana per l'anno del signore 2013 e prometto fedeltà al colore di Contrada e lealtà al magistrato del Paglio. Sottolinea, scenditi della spada affinché per mezzo di essa tu possa eserciutare la forza della giustizia, sostenere i colori del tuo consiglio e proteggere il popolo di Contrada. Per valutare la contrata a San Bernardino, assumo la carica di capitano per l'anno del signore 2013 e prometto fedeltà ai colore di Contrada e lealtà al magistrato del Paglio. Sottolinea, scenditi della spada. Sottolinea, scenditi della spada. Sottolinea, scenditi della spada affinché per mezzo di rispettare la forza della Assumo la carica del capitano per l'anno dei signori 2013 e prometto che nel tempo l'ho incontrata in realtà magistrato del palo. Portaci, portaci la croce, 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 sostenere i teori del tuo messino e proteggere il popolo di Contrata. Lorsignori sono stati da noi qui convocati il 27 aprile per ascoltare e ricevere il bando del palo, mediante il quale noi, supremo magistrato del palo, abbiamo dichiarato aperte le confezioni tra le contrarie della città per la conquista dell'accrocio da diverso d'antimiano. Noi siamo qui con il nostro bene pratico ad attendere che noi signori iscrivano le loro contrarie, presenti nel capitano, le castellane e gli studietti, accoglieremo le istruzioni e daremo il soldo al fine che tutto sia fatto come l'antica e consacrata tradizione. Io, Gran Priore della Contrada San Martino, a nome del Concilio dei Priori, iscrivo la nostra Contrada al Pagno dell'Anno del Signore 2013 e affido le nostre sorti, nelle mani di Antonio De Pasquale, che presento il nostro capitano all'onorevole di giustizia del Collegio di Magistrani. Castellana, la gentile signora Siamola Dentana, Studiero, il Signore Luca Neri e il nome del Santo Prodettore della nostra Contrada San Martino, Nessimo Futur, promettiamo realtà nella competizione nella quale ci accendiamo a cuore tutte le nostre forze. Grazie e buone, Lino Barone. Capitano Antonio De Pasquale, nel quarto anno 2015. ca e buone è giovane i giuni, cambia l'Italia va referendum per ab parameter patendili ci Sheriff che ci trasmese mi ritorno e che ci trasmese attende Signor Luca Eppi Io, gran priore della Contrada San Domenico A nome del Concilio dei Primori Iscrivo la nostra Contrada al Padre del Signore 2013 E affido le nostre sorghe Delle mani di Alessandro Bonioli Che presento come nostro capitano All'onorevole giustizia del territorio della distanza Castellina, la gentile signora Significa la nostra Signore, il Signore, il Signore, il Signore E nel nome del santo professore della nostra Contrada San Domenico Provvediamo di altare la competizione Della quale ci vingiamo a porre tutte le nostre cose Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Capitano Alessandro Bonioli Conquistare il Signore Conquistare il Signore Conquistare il Signore Io Gran Piore della Contrada A nome del Concilio dei Primori Iscrivo la nostra Contrada Al Padre del Signore 2013 E affido le nostre sorghe Nelle mani di San Domenico Che presento come nostro capitano All'onorevole giustizia del Collegio di Magistà Castellana La gentile signora Erika Giudici Signore Il Signore Filippo Baichelle E nel nome dei santi protettori Della nostra Contrada Cisino Martirio E Alessandro Promettano Promettano realtà Nella Costituzione In la quale Ci accendiamo a cuore Tutte le nostre forze Grazie a tutti 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 Capitano Capitano Paolo Cristiani Quarto anno di leggerita Castellana Grazie a tutti 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 Viero, signor Stefano Monce, meditore del santo potretore del nostro compagno San Bertardino, promittiamo le realtà nella Costituzione nella quale ci accendiamo fuori tutte le nostre porte. Ormai non vissi noi! Grazie a tutti, Roberto Riva. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.